La presidenza, la presidenza della società, della Chia? Noi abbiamo presentato una mozione, no ovviamente, la stiamo depositando ora, abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, lo sapete, una mozione per chiedere al governo di verificare se, come avrebbe confermato anche l'assessore alle attività produttive qui della regione, effettivamente questo presito sia stato garantito anche forzando alcune regole formali come pare sia accaduto, perché in questo caso chiediamo al governo di recuperare le somme e di procedere per danno erariale. Io penso che in una Italia nella quale ci sono imprenditori che si tolgono la vita perché non ce l'hanno fatta e nessuno nel pubblico copre i loro debiti, il fatto che invece i debiti della società di famiglia e del Presidente del Consiglio vengano pagati dai cittadini mi sembra francamente un rischio di conflitto di interesse.